Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. John Constantine è un esperto e disilluso conoscitore del mondo sovrannaturale, abituato ad avere a che fare con angeli, demoni e mezzosangue. Quando la fine del mondo sembra ormai imminente, toccherà a lui salvare l'umanità prima che sia troppo tardi. Questa è la sintesi di Constantine, film del 2005, con protagonisti Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Shia LaBeouf e Peter Stormar. In questo video andremo ad esaminare gli aspetti salienti di Constantine, dando anche spazio alla storia editoriale di questo affascinante anti-eroe. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social cercando Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Partiamo proprio dal personaggio di Constantine e dalla sua storia editoriale. La prima comparsa di John avvenne in un fumetto della DC Comics di Alan Moore. John Constantine è nato a Liverpool, nel Regno Unito, e non possiede alcun superpotere. Tuttavia può attingere alle proprie conoscenze dell'occulto e della magia per compensare tale mancanza. Il personaggio di Constantine venne poi riproposto nella serie denominata Hellblazer, pubblicata dalla Vertigo, una costola della DC Comics, dove John è il protagonista assoluto. Qui compaiono varie figure della tradizione cristiana, come Lucifero, gli angeli, gli arcangeli, eccetera. John è un fumatore incallito, il suo carattere è aspro e non incline all'altruismo. Spesso agisce per il proprio interesse, e ciò di riflesso aiuta gli altri o l'umanità intera. Nel film del 2006 le sue origini sono state cambiate, visto che è nativo di Los Angeles, ma il vizio del fumo e il caratteraccio restano immutati. Constantine film si apre con una scena ambientata in Messico, dove un uomo, scavando sotto le rovine di una chiesa, rinviene una lancia avvolta in una bandiera del Terzo Reich. La reliquia è la potente lancia del destino, l'arma con cui fu trafitto al costato di Gesù durante la crocefissione. L'uomo viene posseduto da un'entità malevola, che lo rende immortale e si dirige a Los Angeles. Proprio nella città degli angeli, John Constantine esegue un esorcismo per salvare una ragazzina da un demone. L'occultista capisce che sta succedendo qualcosa di strano. I demoni infatti si stanno facendo sempre più spregiudicati e tentano di giungere sulla Terra, violando l'equilibrio tra paradiso e inferno. Demoni e angeli infatti non possono intervenire liberamente sulla Terra. Qui vivono solo i cosiddetti mezzosangue, creatura a metà tra l'umano e l'angelico o l'umano e il demoniaco. Constantine scopre anche di essere prossimo alla morte per un tumore ai polmoni. Del resto fuma 30 sigarette al giorno dall'età di 15 anni. Constantine si incontra con Gabriele, mezzosangue angelico, e le chiede di rimanere in vita più a lungo per poter indagare. John è inoltre condannato all'inferno, visto che da giovane ha tentato il suicidio per la disperazione. Egli infatti ha visioni del sovrannaturale sin da quando era bambino, e ciò aveva spinto i suoi genitori a sottoporlo a devastanti ma inutili terapie psichiatriche, tra cui l'elettroshock. Nel frattempo un detective della polizia di Los Angeles, Angela Doxon, deve indagare sul suicidio della sorella gemella Isabel, ed è tormentata da alcune visioni della gemella stessa. Le sorti di Angela e Constantine si incrociano, anche se inizialmente l'uomo non intende aiutarla. Un attacco demoniaco però gli fa cambiare idea. Angela è al centro di qualcosa di importante. Un aiutante di John, padre Ennessy, si intrufola nell'obitorio dove è conservato il corpo di Isabel, scoprendo che sul suo braccio è presente un particolare marchio. Ennessy viene poi ucciso dal mezzodemone Baltasar. Angela confida a John che Isabel era una sensitiva, e che, esattamente come lui, vedeva le creature sovrannaturali in mezzo alla gente. Per questo motivo i genitori la fecero ricoverare in vari istituti di igiene mentale. In realtà anche la stessa Angela aveva delle visioni, tuttavia ha soffocato i suoi poteri, negandoli per salvarsi in un certo senso. Constantine, aiutato dal demonologo Biman, scopre che il marchio rinvenuto sul corpo di Isabel è il simbolo di Mammon, figlio di Satana che intende ribellarsi al padre ed ergersi sopra di esso. Mammon intende anche giungere sulla terra e instaurare un regno infernale qui da noi, scatenando la fine del mondo. Angela, grazie all'aiuto di John, risveglie i suoi poteri e capisce che in tutto questo è coinvolto Baltasar. Nonostante sia sempre più debole, Constantine affronta il mezzo demone prendendolo a cazzotti con un tirapugli benedetto e minacciandolo di mandarlo in paradiso. Baltasar cede e confessa il piano. Angela dovrà essere uccisa con la lancia del destino, in modo che Mammon possa giungere nel nostro mondo. Dopo questa rivelazione, Angela viene rapita da un'entità ignota. Constantine, aiutato da altri suoi due amici, ossia il giovane autista Chas e Papa Midnight, prepara un piano d'azione, forgiando dei proiettili benedetti per il suo bellissimo fucile placcato in oro e a forma di croce. Tamarragine sacra. L'occultista, grazie a un rituale, scopre dove si trova Angela e parte all'attacco, facendosi strada tra decine di mezzi demoni. Nel frattempo, l'uomo con la lancia è arrivato da Angela e Mammon così entra in lei. John e Chas arrivano al cospetto di Angela e tentano un esorcismo che però non funziona. Chas resta ucciso. John viene poi attaccato da Gabriele, ossia con lei che ha organizzato il tutto. Il mezzo angelo, infatti, ritiene che l'umanità debba dimostrare di meritare l'amore di Dio. Solo mantenendo la fede, mentre Mammon regna sulla Terra, potrà dimostrare che l'umanità è meritevole e degna dell'amore di Dio. John sa di non poter vincere contro Gabriele, troppo potente, e decide di tagliarsi le vene per attirare l'attenzione di un improbabile alleato, ossia Lucifero. Egli, infatti, brama la sua anima. I due si parlano. Constantine spiega a Lucifero il piano di Gabriele e il diavolo interviene per fermare l'ascesa del figlio e anche per mantenere l'equilibrio. Lucifero neutralizza Gabriele, rendendola umana, e ricaccia il figlio all'inferno. Poi offre a John un desiderio come ricompensa dell'aiuto. John non chiede nulla per sé, desidera solo che l'anima di Isabel possa andare in paradiso. Questo atto di generosità fa sì che John, ormai moribondo, possa andare in paradiso, ma Lucifero non ci sta, quindi lo guarisce dal tumore e gli promette che vivrà ancora a lungo sulla Terra. John torna da Angela, che è sana e salva, decidendo poi di risparmiare Gabriele e facendole giusto assaporare una cosa molto umana e terrena. Il dolore. Nella scena post-credit del film vediamo Chas che ascende al cielo come Angelo. Insomma, Constantine presenta una sana dose di tradizione e mitologia cristiana. John ha il suo arco di redenzione, che lo porta a capire il valore del sacrificio e dell'altruismo, anche se Lucifero confida nel fatto che prima o poi finirà comunque all'inferno. Reeves, pur essendo fisicamente diverso dal Constantine del fumetto, si è calato assai nella parte e rende molto bene. Anche Tilda Swinton, come Gabriele, a me è piaciuta molto. Lei ha un che di sovrannaturale di suo, quindi altra scelta azzeccata. Anche Rachel Weisz, già vista in La Mummia, funziona, lei è sempre molto molto bella, ma la scelta di Cast che ho apprezzato più di tutte è quella di Peter Stormare come Lucifero. Per i fan di Jurassic Park parliamo dello stesso attore che ha interpretato Dieter in Il Mondo Perduto. Il Lucifero di Constantine non ha una fisicità spiccatamente demoniaca, non ha ali o corna, eppure è molto inquietante, per il suo modo di fare così subdolo ma anche ammaliante. Compare inoltre vestito di bianco, un colore che noi non associamo di certo al diavolo, ma egli è pur sempre l'angelo più radioso di Dio, seppur decaduto. Apprezzabile anche il dettaglio della pece che cola dai suoi piedi e dalle sue mani e che scorre anche un po' sul suo corpo, in realtà. Un rimando al fuoco dell'inferno è anche forse la sua moralità nera, diciamo così. Lucifero è un personaggio ricorrente in alcune serie della DC Comics, come la già menzionata Sandman, ed è un'entità estremamente potente, ma non sempre per forza malvagia, in quanto non è sempre un antagonista, è un personaggio più borderline. Tiriamo un po' le somme su questo Constantine. A mio avviso si attesta come un buon film, che sa unire azione, tematiche sovrannaturali e ottime scelte di cast. La trama presenta vari colpi di scena, evitando quindi di essere banale. La visione è assolutamente consigliata a tutti gli appassionati di tematiche sovrannaturali o bibliche, ma anche per chi vuole gustarsi una buona pellicola accattivante. L'anno scorso, tra l'altro, è stato anche confermato che si farà un Constantine 2. Il film è in fase di sviluppo e Keanu Reeves tornerà nel ruolo di John. Segnalo che nel momento in cui registro il video, Constantine è disponibile su Netflix. Sempre su Netflix è disponibile anche la serie tratta da Sandman, e anche Lucifer, altra serie liberamente ispirata al personaggio in versione DC. Che dire signori, vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Constantine, se vi piace, se non vi piace, se siete contenti che ci sarà anche un sequel. Se invece ad esservi piaciuto è questo video, vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale perché no ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa, PayPal e TP, link in descrizione. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!